Che bel programma E adesso, ritalli Ma che cazzo dei gruppi folkloristici? I gruppi folkloristici quelli che fanno la 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 Tu hai visto gruppi che facevano così? Ciò che ha dato il via all'apertura del buco allo sch... Prova, prova, uno, due, tre, prova Naturalmente le porte erano aperte, no A tre secondi devi spengare Danilo però No Ciao amici di Opinion Leader Nel prossimo incontro affronteremo col pre... scusa Segni particolari, bellissima No Opinion Leader è una produzione in posto